Una serie televisiva può raccontare la storia del Novecento? Lo può fare bene? Lo può fare in maniera intelligente e critica? La risposta è dipende, dipende dalla serie, dipende dagli autori, dipende dalla sceneggiatura. Da questo punto di vista la serie Peaky Blinders, cominciata nel 2013, è un ottimo esempio. Certo, siamo all'interno della Golden Age delle serie, il periodo in cui negli ultimi vent'anni le serie televisive sono diventate il teatro dell'immaginario per definizione, affidate a grandi autori, affidate a grandi scrittori, e sono diventati un prodotto artistico che si confronti in maniera molto complessa col nostro passato. Peaky Blinders è una serie molto sui generis. È una serie che mescola molto abilmente storia e fiction, e cominciamo dagli elementi di fiction, i protagonisti. Una gang criminale a Birmingham nel 1919. La verità è che una gang criminale a Birmingham è esistita veramente sotto il nome di Peaky Blinders, ma nel 1919 non era più attiva, era una banda criminale che aveva vissuto il suo periodo aureo negli anni Dieci del Novecento e che dopo la Prima Guerra Mondiale era già stata smantellata, messa in fuga o incarcerata. Il suo protagonista, Thomas Shelby, uno zingaro, un rom inglese, veterano pluridecorato del primo conflitto mondiale. Non è mai esistito un personaggio del genere, ma Thomas Shelby è un geniale simbolo di un'intera comunità, ed è questo il primo elemento complesso della serie che molti non hanno capito, perché su Peaky Blinders gli storici hanno già avviato una riflessione, anche in Italia, anche nelle riviste italiane. Alcuni anni fa a Trento si tenne un convegno in cui la serie Peaky Blinders, che metteva in scena dei veterani ritornati dal primo conflitto mondiale, fu identificata come la serie che raccontava il post-traumatic stress. È vero? Solo parzialmente. In realtà la serie offre verità e contenuti molto molto più complessi. È vero, ci sono dei veterani, dei reduci inglesi del primo conflitto mondiale che compaiono periodicamente all'interno degli episodi e che sono veramente affetti da post-traumatic stress, che non riescono a liberarsi dai traumi, dagli incubi del primo conflitto mondiale, dagli incubi della violenza, dagli incubi dei bombardamenti, che sono dei disadattati. Soldati che non sono mai veramente ritornati dal fronte. Ma in realtà la serie racconta anche molto di più della guerra come fuccina dell'immaginario, come palingenesi, come laboratorio in cui le identità vengono plasmate. Ad esempio in Peaky Blinders tutti i veterani formano una vera comunità, una grande famiglia. E la guerra ritorna e ritorna costantemente. Chi ha fatto la guerra appartiene a un mondo diverso. Thomas Shelby non mente a se stesso. Thomas Shelby è un criminale, sa di essere un criminale e non rinnega mai la sua identità, ma contemporaneamente non rinnega neanche mai la sua identità di veterano e coloro che sono stati con me in Francia formano la sua famiglia allargata. Thomas Shelby è un eroe ambiguo. È un criminale che lotta per affermare i suoi diritti individuali e il proprio benessere e contemporaneamente i diritti e il benessere della propria famiglia e della comunità dei vecchi fratelli in arme che tornano dal fronte senza nulla i traumatizzati. Lotta in Birmingham operaia, impoverita, squallida e violenta. E anche questo in realtà è un altro elemento di fiction, perché la Birmingham operaia in cui queste bande di criminali si confrontano in realtà non è mai esistita. O meglio, è esistita la città operaia, ma il livello di violenza raggiunto dal Regno Unito subito dopo il primo conflitto mondiale in realtà non era così elevato e non c'erano tutte quelle armi in circolazione. In certi tratti, in certi episodi della serie sembra di essere veramente nella Chicago di Al Capone, ma in realtà, come ha scritto John Lawrence in un bellissimo articolo del 2003, il livello di violenza armata raggiunta nella Gran Bretagna del 1919-22 non era poi così alto e la maggior parte delle proteste, che pur ci furono, erano in realtà proteste disarmate. Ciò nonostante, Thomas Shelby nella fiction, interpretato dal grande Cillian Murphy, usa molto spesso volentieri le armi della Grande Guerra. Le gang si affrontano a suon di mitraglie, di fucili e di bombe a mano. Thomas Shelby non rinnega mai la violenza, ma continua a dire, e anche altri coprotagonisti dicono per lui, che la violenza in realtà in lui non era innata. Thomas Shelby era partito per la Grande Guerra volontario, leale al re, ed era tornato un uomo violento, disilluso, senza sogni, abituato a lottare per sopravvivere. Chi è in realtà Thomas Shelby? Beh, Thomas Shelby è un personaggio molto complesso e anche in questo è un eroe ambiguo, il villain che in realtà diventa eroe positivo. È un personaggio che lotta non solo per affermare il proprio potere, ma anche contro i pregiudizi della società inglese. È un gypsy, è un rom, non è un vero cittadino britannico secondo i pregiudizi etnici dell'epoca e già questo ne fa un personaggio molto eccentrico. È un veterano pluridecorato e questo lo pone a un livello diverso, superiore rispetto ai membri della sua famiglia e del suo clan. L'identità di veterano pluridecorato tornerà ossessivamente nel corso della serie. A un certo punto Thomas Shelby rifirà sposare la sua Grace, l'unica donna che lui abbia mai veramente amato, ma Grace viene da una famiglia completamente differente, viene da una famiglia altolocata di irlandesi protestanti e i suoi parenti in realtà hanno servito tutti anche loro in guerra, dove in cavalleria l'arma dei privilegiati e durante il matrimonio si presentano nei loro rutilanti uniformi rosse e dicono ai Shelby noi non avremmo mai dato il nostro consenso al matrimonio se non avessimo saputo che lei era un veterano pluridecorato. Nel corso della serie Thomas Shelby, altro elemento di fiction, incontra a più riprese Churchill e i due stringono un sudalizio molto molto bizzarro, in lotta contro chi, in lotta contro altri criminali, ma soprattutto in lotta contro i fascisti. Nel corso della quinta stagione, l'ultima prodotta fino adesso, stiamo aspettando entro il 2021 rilascio della sesta, Thomas Shelby si vota una crociata contro i fascisti britannici. Verità o finzione? Beh, ci fu veramente un'unione dei fascisti britannici, guidata da un personaggio a sua volta molto eccentrico, molto brillante e particolarmente scelerato, che era Mosley. In realtà il confronto fra Thomas Shelby e Mosley, fra la gang dei Rom che si allea con la comunità ebraica inglese contro i fascisti britannici, beh, questo è tutto elemento di fiction. Ma le tensioni che attraversavano la società britannica in quegli anni, a questo punto siamo nel 1929. I 30, la serie si affaccia sui conflitti degli anni 30, invece quelle erano reali. Churchill non si alleò mai con una gang di criminali per combattere i fascisti, ma l'incontro tra i due personaggi totalmente di finzione in realtà ha degli elementi estremamente preziosi, estremamente stimolanti per ricostruire la psicologia di una società attraversata da profondi conflitti interni, come era quella inglese tra anni 20 e 30. Churchill dirà a Thomas Shelby, tutti e due siamo dei soldati, ancora una volta l'ossessione della guerra che ritorna. Combattiamo per il bene del nostro paese, anche se in maniere molto differenti. L'ossessione della guerra è una costante di ogni personaggio. A un certo punto Thomas Shelby si dovrà confrontare con un altro personaggio molto molto bizzarro, che si chiama Luca Cangretta. Luca Cangretta è un mafioso italiano di New York, interpretato da uno strepitoso Adrian Brody, interpretato bisogna dire in maniera spesso anche caricaturale, con tutti gli stereotipi dell'italo americano. Luca Cangretta arriva in Inghilterra per vendicarsi di Thomas Shelby che gli ha ucciso il padre. Nel corso della serie Cangretta si scontra con molte resistenze da parte della società inglese. Sembra quasi a un certo punto che l'intera comunità britannica si coalizzi contro di lui, ma non perché appoggia i criminali di Birmingham, perché Luca Cangretta è un estraneo, soprattutto è qualcuno che non ha mai fatto la guerra. A un certo punto glielo dice anche un poliziotto, lo sta facendo aspettare. Luca Cangretta, molto arrogante, armato fino ai denti nella sua automobile, è costretto ad aspettare che un poliziotto rimuova un veicolo incinentato da una strada. E quando lui si lamenta, il poliziotto lo guarda e gli dice americano, eh? Noi vi abbiamo aspettato per quattro anni. E Luca Cangretta commenta ancora questa cosa della guerra. Qui ognuno parla della guerra, la guerra è dappertutto, è vero. Per tutte le cinque stagioni finora girate di Peaky Blinders, il fil rouge non è il post-traumatic stress, non è solo il trauma, è la guerra in tutte le sue sfaccettature, la guerra che ha creato una comunità di fratelli, la guerra che ha segnato chi era coraggioso da chi non lo era, la guerra che ha segnato chi era veramente devoto al suo paese da chi non lo era, la guerra che ha segnato chi era veramente un soldato da chi ha solo fatto finta di esserlo vestendo un uniforme. È tutto qui il contenuto di Peaky Blinders che fa di questa serie uno dei più stimolanti strumenti per conoscere la storia europea e britannica del Novecento? No, naturalmente no, si tratta di una serie dai contenuti molto molto diversi, molto ricchi, molto complicati. E proprio questo fa sì che si tratti di un prodotto televisivo eccezionale. Per certi versi Peaky Blinders ha ripreso veramente le caratteristiche tipiche della serie della Golden Age, come Mad Men, un'altra serie che aveva investigato su una storia più recente e, tra parentesi, l'aveva fatto anche lì partendo dai traumi e dalle eredità culturali di una guerra, in questo caso la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto la guerra di Corea. Come Mad Men, Peaky Blinders è una serie che può diventare uno strumento utilissimo per stimolare, per incentivare, per fornire curiosità e spunti, insomma può diventare uno strumento molto molto utile per penetrare all'indietro nei meandri del passato, anche delle domande che spesso gli storici non si sono fatti, soprattutto in Italia. Una nota conclusiva, c'è un amaro che lascia in bocca Peaky Blinders per chi lo guarda come spettatore italiano ed è la consapevolezza che in Italia non abbiamo né gli attori, né gli sceneggiatori, né gli autori, né soprattutto la coscienza per riuscire ad avere serie così ricche, così critiche, così intelligenti per investigare sul nostro passato.